Sarà un'altra serata di fuoco, sarà un'altra nottata di fuoco per il calciomercato a tutte le latitudini, sarà una puntata particolare perché è una puntata work in progress come giusto che sia per il calciomercato, oggi tanti raduni, ritiri, abbiamo seguito come sempre tutto con le varie squadre del gruppo editoriale distante, buonasera a tutti, benvenuti, speciale calciomercato in una puntata che sarà ricchissima di notizie, prosegue il balzer di punte in particolare, si sono concretizzate praticamente quasi tutte le notizie che vi abbiamo dato in queste settimane, ma soprattutto dobbiamo dire che è un mercato particolarmente vivace per le squadre pugliesi e lucane che sono grandi protagoniste, pochi minuti fa è arrivata la conferma dell'ingaggio di Marcinski da parte del Lecce, colpo in prospettiva importante per i direttori Corvino e Trinchera, il centrocampista polacco classe 2002 ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per il quinto anno, il nostro primo servizio. E nel Salento per sostenere le visite mediche di rito il neoacquisto giallorosso Filip Marcinski, il trequartista polacco sembra essere la pedina mancante negli undici titolari per ricoprire il ruolo di sottopunta alle spalle di Kristović. L'area tecnica del Lecce ha compiuto una vera e propria trattativa lampo per strappare il 22enne alle sirene della Premier League, Brighton e Aston Villa su tutte. Nonostante la giovanità, Marcinski, che ha sempre militato nel Lecce Poznan, ha ben 166 presenze tra campionato e Coppe Europee. L'anno scorso il suo Lecce si è fermato ai quarti di finale di Conference League proprio contro la Fiorentina d'Italiano. Come detto, agirà da trequartista centrale nel 4-2-3-1 disegnato da Gotti durante la preparazione pre-campionato. Non solo inventiva ma anche concretezza sottoporta. Undici gol nella scorsa stagione, otto in campionato, dimostrano la sua propensione al gol. Basti pensare che il calciatore infatti ha iniziato la carriera d'attaccante. Ovviamente Corvino e Trinchera non sono fermi e continuano a scandagliare il mercato per cercare almeno un altro esterno offensivo, un terzino destro e un centrale difensivo, sperando che l'appetito di qualche pretendente nei confronti di Kristović non si faccia troppo concreto. Tra poco torneremo su Lecce con altre notizie di mercato. Dobbiamo dire che in queste ore non c'è soltanto il calciomercato, ci sono trattative anche per quanto riguarda le cessioni o possibili o paventate cessioni di società e in particolare in questo senso tiene banco la questione Bari. Mercoledì scorso vi abbiamo raccontato praticamente tutto, in diretta da Fiuggi dove si è consumata l'ultima amichevole della fase di ritiro del Bari con il nostro Flavio Insalata che era in diretta con noi dopo l'amichevole che ha dato comunque buoni spunti soprattutto per quel che concerne i nuovi acquisti con il Frosinone ma ci sono novità passo dopo passo, minuto dopo minuto perché il Bari in queste ore potrebbe mettere a segno altri colpi molto importanti. Messo ormai definitivamente alle spalle il ritiro di Roccaraso con la bella vittoria sul retrocesso Frosinone a far da ciliegina sulla torta di una due settimane foriera di indicazioni interessanti il Bari guarda al futuro continuando a prestare attenzione soprattutto al calciomercato ancora almeno cinque le operazioni in entrata da mettere a referto Magalini e Di Cesare danno la caccia a un portiere titolare da affiancare al confermato Pissardo, a due difensori possibilmente un braccetto di sinistra titolare e un centrale vicevicari, a un centrocampista che vada ad arricchire e a completare il reparto in attesa di novità sull'eventuale uscita di Maita e a un trequartista in grado di aggiungere qualità alla manovra offensiva. La sensazione allo stato attuale delle cose è che l'investimento principale e la società lo possa fare proprio su quest'ultimo fronte ma per esso servirà ancora del tempo molto più vicino alla sua soluzione il rebus estremo difensore. Con Radunovic sempre più defilato e con Semper ormai a un passo dal Pisa il nuovo portiere bianco-rosso potrebbe arrivare proprio dalla città della torre. Per rispondere al nome di Nicolas, brasiliano classe 1988 con una lunghissima esperienza in cadetteria. Il giocatore è in uscita dai neroazzurri e ha già espresso il suo gradimento per la destinazione. Quel che ancora manca per chiudere l'operazione è un accordo con il club toscano ma l'impressione è che entro l'inizio della prossima settimana le parti possano trovare un compromesso. In difesa, quanto al braccetto di sinistra, la pista più calda continua a essere quella che conduce a Davide Veroli di proprietà del Cagliari che però lo considera in uscita. L'ex Catanzaro potrebbe approdare nel capologo pugliese per tramite del Napoli che in questo senso lo acquisterebbe a titolo definitivo dei Sardi magari all'interno dell'affare che potrebbe portare il partenopeo Gaetano in rosso-blu. Occhio però alla concorrenza spietata della Sampdoria. E allora, sapete quelle che sono le regole di ingaggio della nostra trasmissione, andiamo in ordine sparso in base alle notizie di mercato che arriveranno, però vi anticipo subito che vedo già pronto Antonio Specchio in diretta da Cotronei, dalla bellissima Calabria perché oggi ha seguito la partita che abbiamo trasmesso in diretta su Antenna Sud tra Lecce, Primavera e Monopoli, quindi torneremo ancora su Lecce. Monopoli scatenato oggi sul mercato, vedo pronto tra l'altro il tecnico, sì tra poco mi dicono, del Monopoli Alberto Colombo, poi saremo in diretta dalla sede del Raduno del Picerno, il Raduno della Fidelissandria, la presentazione del nuovo Fasano, il Potenza, insomma c'è tanta tantissima carne a cuocere. Allora chiedo a Sebastiano Bufalo di iniziare con le card, come le chiamiamo noi, del mercato, così facciamo un po' il punto della situazione con le anteprime di Antenna Sud perché c'è sicuramente il Foggia tra le protagoniste, ci sarà sicuramente il Foggia tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie C, Foggia che è in chiusura, lo abbiamo anticipato oggi sui nostri canali web con Lazar Zlicic perché anche il Foggia vuole andare in competizione con il Lecce sulla difficoltà evidentemente delle pronunce dei giocatori che va ad ingaggiare, attaccante molto bravo, classe 97, dovrebbe fare le visite mediche e firmare il contratto con i rossoneri già nella giornata di domani, in questo momento era svincolato l'ultima esperienza in prima divisione serba con la maglia del Napredac, intanto, e qui rispondo ad una domanda che ci pongono molti tifosi, il Foggia, prosegue il pressing sull'Escano, la situazione è particolare e ve l'abbiamo spiegata e si può sbloccare da un momento all'altro, l'Escano è un giocatore della Triestina, la Triestina ha fatto sapere di volerlo trattenere la scorsa settimana, ma sapete quelle che sono le dinamiche del mercato, ha fatto sapere di volerlo trattenere dopo il pressing asfissiante soprattutto del Catania che a un certo punto sembrava avesse in mano il giocatore anche se non aveva ancora l'accordo con la Triestina, quindi la sua società di appartenenza, in poche parole tradotto, ha detto l'odiamo soltanto in caso di offerta veramente importante, perché questo è il senso del messaggio che aveva mandato la Triestina, il Foggia sta lavorando ai fianchi la società alla Bardata, vedremo quello che succederà nelle prossime ore, Catania e Foggia continuano a contenderselo, ma adesso è leggermente più della parte del Foggia, però vedremo quello che succederà. Andiamo avanti ancora con le prossime card, vi avevamo anticipato qualche giorno fa, e qui invece siamo in Serie D dell'interesse del Nardò per Maletic, adesso ci siamo. Marco Maletic è vicinissimo, l'ex nocerina ad essere un calciatore del Nardò, il Nardò inizialmente doveva scegliere tra lui e Marco Puntoriere, ex palmese, invece proverà a chiuderli entrambi e proverà a chiudere tutti e due i giocatori tra domani e lunedì. Quindi due attaccanti importanti per l'attacco del Nardò che contestualmente ha confermato anche Simone Danna che aveva un biennale ma la cui permanenza non era assolutamente scontata. Andiamo ancora avanti con le nostre card, è qui. Altra telenovela di mercato, tra le tante telenovela di mercato che vi abbiamo raccontato e che vi stiamo raccontando in quest'estate, nella Serie D più costosa degli ultimi vent'anni, perché è inutile girarci attorno, è così. Vi abbiamo detto in anteprima assoluta di quella che è stata e poi si è concretizzata, mi riferisco evidentemente alla trattativa di Malcore al Casarano, questa è qualcosa di più di una telenovela perché questo ragazzo che lo scorso anno è stato capocanniere del campionato, da Silva, Matteus Castro, da Silva di proprietà della Gravina, ha un altro anno di contratto con il Gravina, è stato affiancato a tutti i club praticamente italiani e anche esteri, a un certo punto venne addirittura ufficializzato con tanto di foto e comunicato stampa da un club della Serie A rumena che tra l'altro oggi continua a dire di avere il contratto firmato del calciatore, questo ha reso ancora più difficile il suo spostamento dal Gravina, però c'è un Andrea che lo vuole, che lo tiene in pugno in qualche modo, che è all'accordo con il giocatore, al di là delle smentite chiaramente che fanno parte del calciomercato di facciata e che spera di chiuderlo entro lunedì, contestualmente il giocatore deve dare conto al Gravina e al club rumeno, quindi bisogna capire un po' dal punto di vista burocratico quello che succederà, tenete conto che questo ragazzo tre giorni fa stava per essere quasi ufficializzato dal Chievo Verona, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, però l'Andria oggi addirittura spera di abbracciarlo e di fargli effettuare già il primo allenamento con il resto dei compagni, se dovesse riuscire, perché non è un problema di carattere economico, l'Andria copre tutto, se dovesse riuscire a sbloccare la situazione burocratica entro lunedì da Silva diventerà il nuovo attaccante della Fidelissandra che invece ha perso Santoro perché ha deciso di rimanere a Gravina. Andiamo ancora avanti perché in queste ore si sta muovendo tantissimo anche in Serie C. Vito Leonetti, un mese fa vi dicemmo che questo giocatore era in uscita dal Cerignola, poi il suo agente anche in questa trasmissione disse che non abbiamo avuto comunicazione in questo senso, però l'Altamura lo aveva sondato un mese fa, senza però aver avuto aperture dal giocatore e dal Cerignola. Ieri c'è stato un nuovo affondo e si sta lavorando per il prestito. Io credo che entro la fine di questa trasmissione avremo novità, però Vito Leonetti è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della team Altamura ed è sempre piaciuto tanto al direttore sportivo Andrea Grammatica, vedete che bel valzer di punte che poi sono quelle che animano in particolare il calciomercato. Andiamo ancora avanti perché tra Serie C e D si vede tantissimo. Marcinski è un nuovo giocatore del Lecce da questa sera, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, quattro anni di contratto con opzione per il quinto anno perché Corvino e Trinchera puntano tanto su questo giocatore e chissà potrebbe nascere da qui l'ennesima Plus Valenza dopo quella da record di Pongracic che ha portato in un anno nelle casse della società 14 milioni di euro di Plus Valenza, sempre più società top della Serie A in Lecce. Andiamo ancora avanti con le nostre card e la nostra raffica di mercato. Eccola qui, l'altra novità di giornata. Il Taranto che prova a rilanciare per Adriano Montalto. Questo è un giocatore che a Capuano piace tanto, questo è un giocatore che il Taranto attenziona già dalla passata stagione, sembrava a un certo punto prossimo al rinnovo dell'accordo con la Casertana perché Montalto è un giocatore della Casertana, si è inceppato qualcosa tra il club campano e l'entourage del giocatore, Zac si è inserito Capuano che proverà a portarlo a Taranto e vedremo quello che succederà tra stasera e domani. E ancora, non so se abbiamo altre card pronte, perché comunque in questo walzer di attaccanti c'è un super attaccante che sta per arrivare a Monopoli ed è Federico Vasquez del Perugia, ex Gubbio, ex Catanzaro, ex Virtus Francavilla. Il Monopoli, che tra poco ne parleremo, vi daremo tante notizie, è una delle protagoniste di questo calciomercato, appena mollato Sosa che ha firmato con la Virtus Francavilla, altra notizia che vi anticipiamo qui, si è fiondata come un treno su Federico Vasquez che è stato in assoluto uno dei giocatori più ricercati di questo campionato di Serie C. C'è l'accordo totale, il Monopoli potrebbe ufficializzarlo già nella giornata di domani, mentre vi dico subito, andiamo ancora avanti, che si è raffreddata, ma non è saltata per ora, la pista Welbeck che è stato accostato a tantissimi club, ma che alla fine per ora resta un giocatore del Catania, una delle tante uscite che dovrà fare chiaramente il Catania. Allora, restiamo in casa Monopoli perché vedo pronto Antonio Specchio con Alberto Colombo. E allora, linea a te Antonio. È arrivata una vittoria, è stata una partita da più sfaccettature però perché nel primo tempo forse un pochino di sofferenza, poi alla lunga siete usciti fuori. Sì, a parte il risultato che ha un valore relativo, fa sempre piacere vincere, ma oggi conta altro nel giudizio, anche se deve essere un giudizio relativo sulla prestazione. Diciamo che abbiamo trovato di fronte una squadra che ci ha messo in grandissima difficoltà, specie nel primo tempo, una squadra che ritengo che abbia un grande valore sia nell'individualità anche nel collettivo perché ha veramente dimostrato di saper giocare a calcio e di mettere in campo tanta qualità e tanta forza. Quindi complimenti a Lecce e al suo mister e credo che possa essere per il Lecce un'annata importante visto la qualità che oggi ho riscontrato. Orlando Viteritti, capitano del Monopoli. Insomma, sei uno dei perni di questo Monopoli. Tu che conosci bene lo spogliatoio, al di là che sia un amichevole, ma che impatto può avere una vittoria come questa? Ma diciamo che oggi i tre punti contavano poco perché comunque era una partita più per mettere benzina nelle gambe che è quello che conta in questo momento. Stiamo caricando anche gli allenamenti, quindi stiamo spingendo per avere la giusta dose di energia durante la stagione. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Ovviamente oggi i carichi di lavoro del mister, dello staff si sono fatti sentire e non eravamo lucidissimi, però questa non è una giustificazione. Siamo contenti, nonostante le difficoltà comunque siano riusciti a vincere questa partita. Allora, dovremmo avere la possibilità tra poco di avere anche altri contributi da Cotronei, provincia di Crotone. Oggi Antena Sud ha trasmesso in diretta l'amichevole tra Lecce, Primavera e Monopoli, ma oggi abbiamo seguito da vicino anche i lavori del Picerno. A proposito, vi do subito questa notizia. Il Picerno aveva praticamente chiuso con Vitale del Sorrento. Il giocatore doveva essere probabilmente ufficializzato già nella giornata di oggi. Poi, da quello che abbiamo raccolto, pare che il Picerno in queste ore sia andato su altri profili e ci stiamo lavorando, abbia mollato Vitale. E mi risulta, notizia che c'è arrivata pochi secondi fa, che il calciatore invece adesso sia vicinissimo al Crotone. Domani è previsto un incontro tra Crotone e Sorrento. Il nostro Francesco Cutro ha intervistato il direttore generale del Picerno, al quale spero sia riuscito a strappare anche qualche notizia di mercato. Vincenzo Greco, col quale abbiamo fatto il punto rispetto alla preparazione dei Lucani. Direttore Greco, facciamo il punto ad oggi sul mercato del suo Picerno. Sì, è un mercato difficile quest'anno perché il compito maggiore, le difficoltà maggiori le sto avendo nel trattenere i famosi pregiati della nostra squadra. I ragazzi che particolarmente si sono distinti lo scorso anno e quindi su di loro sono arrivati delle richieste. Per me sono giocatori importanti per il nostro progetto tecnico. Ovviamente queste resistenze le sto facendo in maniera condivisa con i calciatori e con gli agenti dei calciatori. Quindi queste sono le difficoltà maggiori che quest'anno sto avendo. Alla Rosa, che era già una Rosa abbastanza competitiva lo scorso anno, abbiamo inserito dei giocatori funzionali al nuovo progetto tecnico, quindi gli arrivi di Energe, di Santi e anche di Ander importanti come Cecere e Cartoni vanno a completare un organico che era già abbastanza competitivo e completo. Tra i suoi pezzi pregiati c'è il capo cannoniere. Che cosa farà Murano la prossima stagione? Sì, Murano è un giocatore che l'anno scorso ha fatto particolarmente bene, ha battuto il suo record personale perché non aveva mai realizzato un così alto numero di gol in una società professionistica. Murano è legato al Picerno ancora da un anno di contratto. Voglio sottolineare come Picerno è una società che economicamente è abbastanza solida. Non vuole svendere assolutamente nessuno, ha la forza di poter trattenere giocatori importanti. ovviamente vogliamo anche dare l'opportunità ai calciatori di fare il salto di qualità e magari di andare in una società ancora più blasonata, però come tutti i contratti ci sono delle penali da pagare. Quindi se la penale che verrà riconosciuta al Picerno sarà una penale irrinunciabile, allora prenderemo in considerazione l'eventuale proposta. Però ad oggi non sono arrivate proposte irrinunciabili, quindi Murano continuerà ad essere un calciatore del Picerno. C'è un'operazione top secret, un sogno del cassetto sul quale sta lavorando? No, l'ho detto all'inizio dell'intervista, il colpo di mercato sarà quello di trattenere i pezzi pregiati di questa rosa. Poi dopo qui non ci sono né prime donne né gregari. Tutti i giocatori che fanno parte della rosa sono giocatori importanti. Io cerco sempre di mettere a disposizione del mister una rosa funzionale, quindi giocatori che possono rivestire più ruoli. In ogni ruolo abbiamo sempre la coppia under-over, in modo tale da dare la possibilità al mister di utilizzare i giocatori under in più ruoli e di sfruttare quella che è la regola del minutaggio, però non per una questione economica, ma appunto per una questione di valorizzazione e crescita dei giovani. Quindi nei prossimi giorni sicuramente ci saranno due novità, una in difesa e una in centrocampo, che sono due profili che andranno a completare la rosa. Poi come ho detto in anteprima, prima che si aprisse il calciomercato, io altre operazioni in entrata e in uscita dopo il 25-26 di luglio non ne farò più. Beh, questa comunque è una notizia se confermata, poi è chiaro che il calciomercato non ha leggi scritte, però evidentemente il Picerno vuol provare a chiudere tutta la rosa nel più breve tempo possibile. Comunque realtà importante, come diceva anche il direttore Greco, che è uno dei più esperti di questa categoria, è che è stato lui stesso al centro di tante trattative di calciomercato, perché è stato attenzionato da altri club di Serie C, e ha avuto la forza, ha anche il coraggio di respingere per restare nella società del Picerno, che da quest'anno ha un nuovo allenatore che è Francesco Tomei, con Francesco Cutro abbiamo incontrato anche il tecnico Lucano. Sentiamo. Comissi, innanzitutto le prime impressioni dal suo arrivo a Picerno anche alla luce della prima sgambata di fine luglio. Per adesso sono ottime, perché abbiamo la fortuna di poter lavorare in un posto dove c'è tutto per poter lavorare bene, i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro, ieri abbiamo avuto la prima, come hai detto tu, sgambata, giustamente i carichi sono quelli che sono, ed è giusto che sia così in questo momento, però la predisposizione al lavoro è molto positiva, quindi questo è molto importante perché alla fine riesci a fare tutto bene o male, quello che hai nella testa. Per adesso i ragazzi sono un po' stanchi, però stiamo lavorando molto bene. Dal punto di vista tattico abbiamo visto che la sua squadra è scesa in campo con il 4-2-3-1, stesso modulo dello scorso anno, sarà questa la linea che proverà a dare? Sì, le linee di partenza oramai nel calcio variano, partiamo da questo sistema statico, poi durante la partita si può sempre cambiare in qualsiasi maniera. Un'analisi sul prossimo campionato, che girone ci sarà? Io penso che sia sempre un girone molto competitivo, un girone molto fisico, dove sicuramente ci sono delle squadre che sono attrezzate per fare un campionato importante, tipo Avellino, Benevento, Catania, giustamente sono realtà che in questo campionato si possono giustamente preparare a fare un campionato di vertice. però penso che sia un campionato come tutti gli anni, ma un bel campionato, perché è sempre un campionato combattuto, un campionato dove c'è una bellissima competizione. Sul mercato c'è qualche richiesta ancora che lei ha fatto al direttore greco e al direttore francese? La società mi sta aiutando in tutto e per tutto, quindi poi alla fine queste dinamiche sappiamo che c'è un mercato aperto fino a fine agosto, però noi abbiamo le idee molto chiare, quindi per adesso stiamo facendo quello che dobbiamo fare, quindi andiamo avanti così. Murano molto probabilmente rimarrà, quando è importante giocare con quello che è stato il capo cannoniere dello scorso campionato? È importante secondo me che sia tutto un gruppo, sicuramente Jacopo è un giocatore che ha fatto 20 gol, è un giocatore che è stato sicuramente in evidenza, quindi è bellissimo poterlo avere, però sono anche molto contento perché il gruppo in sé per sé è un gruppo che lavora diversi anni insieme, quindi ha anche dinamiche al di là tecnico-tattiche, ma la cosa più bella è che ha dinamiche umane, di spogliatoio molto forti, quindi questo per me è molto importante. Allora, noi tra poco dovremmo avere, intanto grazie a Francesco Cutro per questi contributi che sono arrivati da Picerno, vi ricordo che noi siamo stati, siamo e saremo dei ritiri di tutti i club praticamente pugliesi e lucani, quindi nel corso di questa lunga e calda estate vi racconteremo tutto in chiave mercato e non solo. Dovremmo avere in diretta Flavio Insalata. Flavio, buonasera. Buonasera a te Fabrizio, buonasera a tutti i nostri telespectatori. Allora, siccome stiamo facendo tutto live, noi siamo in attesa ancora dell'intervista a Marcello Chiricalo, direttore sportivo del Monopoli, che è stato raggiunto poco fa in Calabria dal nostro Antonio Specchio e poi dovremmo avere anche altre interviste sul Lecce, Lecce e Primavera in particolare, sempre realizzate dopo l'amichevole tra Lecce e Monopoli. Però, allora, prima abbiamo già visto il servizio di Antonio Bellacicco, Flavio Diun a Bari, la cui situazione è in continua evoluzione, tanto dal punto di vista societario quanto dal punto di vista del mercato. Sì, sotto il punto di vista societario se cominciano con i patti di riservatezza sapremo poco. Quello che sappiamo è che comunque De Laurenti e Selemiro si sono incontrati adesso per a loro mettere sulla trattativa. Però qualcosa tra pela, Fabrizio. Quello che tra pela è che sulla sponda coetiana hanno dato un mese, un mese e mezzo di tempo per la lezione di sondati, un mese, un mese e mezzo di tempo per la lettura delle carte. Loro entro fine agosto vorrebbero decidere se affondare il colpo oppure lasciare stare la trattativa. Quindi questa può essere per noi anche una buona notizia nel senso che non sarà una trattativa infinita, non si andrà a trattare ad oltranza. Se nascerà, nascerà entro l'estate. Poi ovviamente ci saranno tutti i tempi tecnici per portare a finire magari questa vendita del Bari. Bari che sappiamo essere al momento la seconda società dei De Laurenti, se essere quasi un peso, Aurelio ha detto più volte l'altra società va venduta, il Bari va venduto. Però dall'altra parte loro non l'hanno lasciato intendere direttamente e chiaramente, però secondo me è una minima speranza che la regola cambia e di avere due società anche nella stessa categoria loro ce l'hanno. Adesso dovranno quasi giocare a carte scoperte. Insomma, il Bari la proprietà dovrà capire se vuole vendere o meno. Nel frattempo comunque dovrà allestire una squadra competitiva per il prossimo campionato. Una squadra che, ripetiamo, necessita sicuramente di due difensori, forse di un centrocampista se ne dovesse andare via uno e di due e tre quartisti. Per quanto riguarda i difensori ci sono delle... è di un portiere ovviamente. Per quanto riguarda il portiere, il Bari ha incassato il gradimento di Nicolás e credo questa è una notizia che lunedì e mercoledì non avevamo. Nicolás avrebbe espresso il suo gradimento per la piazza di Bari. Adesso Bari e Pisa devono trattare sul cartellino di un giocatore che comunque è un giocatore di 36 anni che va a scadenza. Quindi il Pisa non dovrebbe avere richieste esagerate. Il Bari dovrebbe in un certo senso anche accontentarle. Ovviamente non si parla di cifre monstro, si parla di cifre relativamente basse. Anche perché stiamo parlando di un portiere di 36 anni che andrebbe in scadenza nel 2025. Sui due difensori, con Veroli c'è un discorso aperto del Cagliari con diverse squadre, lo vuole anche la Sampdoria che avrebbe fatto un'offerta, però secondo me i buoni rapporti tra Giulini e Aurelio De Laurenti e tra i due direttori sportivi faranno sì che Veroli vada a Napoli e poi venga girato in prestito al Bari. Cagliari che ha ancora in piedi il discorso Gaetano con il Napoli, ricordiamoci che è uno dei giocatori che ha contribuito alla salvezza della storia di Ranieri. Potrebbero essere messi sul piatto degli altri giocatori del Napoli che non saranno nei piani di Conte però potrebbero rientrare in quelli di Nicola. Mi viene anche che dire in mente anche se non esiste niente anzi che dire sta facendo benissimo secondo me se continua così Conte se lo tiene almeno per la prima parte del campionato. È probabile soprattutto per in attesa di capire la situazione Simen. Infatti quindi il tentore secondo me è quello lì che Veroli possa andare al Napoli e poi essere girato in prestito al Bari. Per quanto riguarda il braccio di destra al momento è quasi buio per noi perché non riusciamo ancora ad arrivare sul nome si fa il nome di Ferrari però Ferrari è più un centrale in quel caso dovrebbe essere spostato uno tra Bincari e lo stesso Veroli ma Veroli gioca a sinistra quindi a destra non è il suo ruolo naturale neanche Bincari comunque ha mai fatto il braccio di destra quindi restiamo un po' alla finestra. Per quanto riguarda il trequartista secondo me si andrà dopo Ferragosto con Anthony Partipino e non tralasciamo da Stomperero perché se con il Cagliari si comincerà a parlare di più di un giocatore il nome dell'uruguaiano è un nome che potrebbe essere messo prezzo sul tavolo. Bene così Flavio perfetta la tua raffica come sempre grazie buon lavoro tra poco avremo anche contributi sempre di Flavio oggi sulla presentazione del Fasano anzi dico subito al nostro Sebastiano Bufalo di preparare l'intervista a Mariano Fernandez direttore sportivo del Fasano perché oggi è iniziata ufficialmente la stagione del Fasano rispondo ai tanti che ci stanno scrivendo da Brindisi come sapete domani mattina sarà presentata ufficialmente la nuova proprietà e la nuova società del Brindisi con il nuovo progetto vi abbiamo svelato tanto in chiave mercato del Brindisi è arrivato anche questo colpo importantissimo Francesco Marcheggiani è uno degli attaccanti più prolifici in assoluto della Serie D il Brindisi sta cercando un altro attaccante un altro centrocampista un altro difensore non ha fretta chiaramente nel farlo ma deve essere chiaro e domani penso che la dirigenza punterà anche su questo per presentare un progetto pluriennale che conta comunque di riportare il Brindisi nei professionisti ma intanto il Brindisi deve pensare esclusivamente alla salvezza perché è stato un miracolo con pochi precedenti quello di aver salvato una società che era morta e sepolta deve passare un messaggio in particolare che altri club di Serie D con una situazione debitoria di gran lunga inferiore a quella del Brindisi non sono riusciti a descriversi penso a quello che è successo all'Alessandria ma non solo quindi il Brindisi quest'anno dovrà fare un campionato di lacrime e sangue e di sofferenza con una squadra comunque importante e poi iniziare da zero perché stavolta parte da sotto zero nella prossima stagione allora qualche notizia di mercato e poi andiamo anche a Fasano poi abbiamo anche il Martina poi torniamo sulla C anche il Cerignola dopo i colpi Cuppone Gagliano abbiamo detto continuo a questo sondaggio per Peterman della Virtus Centella ma al loro momento è solo un sondaggio saluta come dicevamo prima Vito Leonetti che andrà alla team Altamura accordo chiuso quindi domani è prevista la firma dovrebbe avvenire il trasferimento con la formula del prestito Altamura che sta costruendo davvero una grande squadra ha chiuso anche con Daniele Franco centrocampista classe 94 della Turris lo scorso anno 32 presenze in Serie C il Monopoli è scatenato tra poco dovremmo avere anche il direttore sportivo Marcello Chiricallo raggiunto chiuso l'accordo con Nicolo Bruschi alla sinistra classe 98 proveniente dalla Prosesto ex di Pisa e Fiorenzuola ha incassato l'ok di Federico Vasquez attaccante del Perugia ha preso Paolo Virgilio classe 2005 lo scorso anno al Martino uno dei gioielli del Martino che quest'anno voleva veramente mezza Serie C frenata per ora per Nana Welbeck tra poco magari proveremo a sapere qualcosa di più dal direttore Chiricallo il Catania per allargare un po' il campo alle varie società di Serie C sta continuando a dialogare con Roberto Inglese ex Parma lo scorso anno nella seconda parte della stagione all'Ecco ma non è convintissima la società Etnea più convinta invece di chiudere con Guido Gomez attaccante del Crotone il Potenza continua a seguire Matteo Bacchini il difensore classe 95 reduce dalla promozione in Serie B con la Juve Stabia Asensio in uscita piace all'Ecco e al momento è la destinazione più probabile Virtus Francavilla andiamo in D in attesa di Winston con Sesai c'è qualche problema burocratico sul tesseramento anche se di fatto il giocatore ha già l'accordo da tempo con la Virtus Francavilla sta cercando un difensore over un altro attaccante over intanto la Virtus ha ceduto all'Ellas Verona il calciatore classe 2006 Angelo Vapore nella passata stagione esordito anche in Serie C con il Francavilla tutto fatto per Luigi Piccolo terzino destro classe 2006 della Turris che sarà ufficializzato domani e allora sentiamo Mariano Fernandez direttore sportivo del Fasano Direttore ci racconti come è arrivato a Fasano e che Fasano sta costruendo a Fasano sono arrivato con una chiamata della proprietà diverso tempo fa e quindi dopo aver valutato un po' di situazione credo che che sia una possibilità anche per me e per tutti quanti quelli che fanno parte di questo club è un club storico è un club dove ha voglia di crescere ha voglia di costruire di gettare delle bassi solide sia a livello societario che anche tecnico e quindi abbiamo iniziato questo nuovo progetto con l'idea molto chiare la squadra si sta creando un po' con l'idea di patrimonizzare un po' dei giocatori quest'anno praticamente sarà una squadra tutta nuova giocatori sotto contratti sia giovani che meno giovani non ce li abbiamo quindi come ho detto prima siamo in una fase di costruzione per creare anche una mentalità una cultura di lavoro per cercare sempre di crescere sono che parla sudamericano tanta argentina anche cosa possono dare gli argentini al fasano una tradizione sicuramente positiva mi viene in mente Gonzales bianchini per ultimo tanti ne sono passati hanno fatto bene si a prescindere dai argentini sicuramente sono ragazzi che conosco conosco bene sia a livello tecnico che anche umano sono ragazzi che subito hanno avuto la voglia di venire a Fasano che quello per noi è fondamentale perché noi dobbiamo portare gente che vuole venire che vede Fasano come una possibilità e quindi sicuramente sono ragazzi che hanno delle qualità importanti insieme agli altri che sono arrivati fino adesso siamo molti contenti per la costruzione della squadra e adesso si parte in ritiro e capiremo meglio dove dovremo puntelarla per rinforzare ancora Fabrizio Caglianiello in studio che chiede qualche anteprima a chi arriverà nei prossimi giorni a Fasano ma saluto a Fabrizio un abbraccio che arriverà sicuramente manca un difensore centrale un attaccante esterno e un centrocampista che da un po' di tempo ho diverse idee però come ho detto prima adesso siamo in un buon punto con la rosa quindi non abbiamo fretta lunedì inizia il ritiro insieme all'allenatore capiremo diverse cose che anche per quello ci serve e quindi dopodiché andremo a intervenire dove pensiamo noi ci sarà bisogno di rinforzarla Saluto con affetto anche io il direttore sportivo Mariano Fernandez insomma il suo ingaggio da parte del Fasano è stata un po' una svolta epocale nel Fasano che poche volte forse mai negli ultimi anni si è raffidato ad un direttore sportivo esperto e quindi seguiremo come sempre con attenzione anche questo nuovo corso del Fasano siamo sempre in attesa di ricevere i contributi da Cotronei dovremmo vedere anche gli highlights di Lecce Primavera Monopoli intanto dovremo avere in diretta con noi il presidente del Martina Piero La Carbonara Presidente buonasera buonasera a te buonasera a voi grazie intanto per aver accolto il nostro invito faccio una una premessa perché a inizio stagione noi giornalisti io lo faccio poche volte devo dire quasi mai abbiamo il vizio di fare delle graduatorie in base al calciomercato sulla forza delle rose che puntualmente per fortuna dico anche vengono smentite perché il calcio non può essere una scienza esatta e a maggior di più a maggior ragione non lo è il calciomercato di certo lo scorso anno io ho detto più volte il Martina è stato un capolavoro dal punto di vista del calciomercato perché io credo che sia stato uno dei club italiani di tutte le categorie ad aver valorizzato il più alto numero di calciatori quindi questa credo che sia una medaglia di competenza sulla dirigenza del Martina fatta questa premessa presidente che Martina sta nascendo fermo restando che avete un peso non indifferente sulle spalle quello di dover provare a ripetere o migliorare addirittura un campionato che è stato sensazionale innanzitutto Fabrizio ti ringrazio per le parole ho ascoltato spesso volentieri questo tuo pensiero e lo lo prendo come un complimento e mi fa immensamente piacere ma penso che non facciamo nulla di strano noi abbiamo il nostro modo di fare calcio un calcio ragionato calcio che ha come primo obiettivo quello di quadrare i bilanci per necessità e per modo di fare quest'anno abbiamo terminato una stagione con la finale con Nordo purtroppo sicuramente è una stagione importante un campo lavoro una squadra giovanissima ma non non potevamo che ripartire da zero perché quando si fanno quel tipo di campionati i calciatori hanno ambizioni importanti ed è giusto che i calciatori vadano dietro le proprie ambizioni Presidente la interrompo un attimo perché una curiosità è questa voi l'anno scorso avete messo in vetrina giocatori parliamoci chiaramente molti dei quali mai nessuno ha pensato neanche di cercarli nello scorso calciomercato potrei fare il nome di Riduan Palermo che oggi ha prodato in serie B e mi dicono gli amici della Carrarese che vogliono tenerselo quindi non è in previsione di girarlo in prestito a nessuno penso a Virgilio che voleva mezza serie C e non solo però insomma voi qualche pezzo pregiato siete riusciti comunque a trattenerlo qualcun altro no prevale l'orgoglio per aver lanciato questi giocatori o c'è comunque un po' di rammarico anche no no assolutamente allora devo dire la verità ho un grande rammarico da punto di vista umano per Stigletti perché è un ragazzo che davvero stimo tantissimo però sono assolutamente super contento per il ragazzo che finalmente ha raggiunto la Lega Pro per me è tardi rispetto al suo valore per il resto penso che sia tutto naturale anche perché insomma al di là delle velleità dei vari giocatori c'è anche la consapevolezza di aver operato bene sul mercato e mi sembra che la strategia sia la stessa più o meno presidente per il prossimo Martino sì noi la strategia io lavoro sempre mi piace guardare molto il calcio mi piace avere rapporti scelgo i calciatori in base agli stimoli all'istinto ovviamente con l'aiuto di mister Pizzulli noi abbiamo ecco lì abbiamo una base solida quella dello staff che confermiamo perché sono delle persone che posano in pieno del progetto Martino e quindi abbiamo da una parte un punto fermo dall'altra ragioniamo sugli stimoli stiamo andando a pescare calciatori che secondo noi potrebbero essere i calciatori importanti nel futuro la differenza la fa vedevo vedo Casarano vedo sicuramente Franciavilla ecco che effetto le fa vedere perché questa è la serie D in assoluto la prossima sarà la serie D in assoluto più costosa forse degli ultimi 20 anni perché si parte con perché molti non conoscono le campane ma le campane al di là di quelle che finiranno il giorno H sono tutte corazzate sulla carta praticamente quindi ultima cosa che volevo chiedere che effetto le fa vedere così tanti i suoi colleghi che stanno spendendo espandendo per provare a raggiungere la C ma è un effetto normale nel senso ognuno è libero giustamente di fare quello che ritiene opportuno sicuramente ci sono modi di fare calcio rispettati entrambi io rispetto il modo di fare calcio dei miei colleghi abbiamo abbiamo un modo di fare calcio diverso dico sempre che in campo però si entra 11 contro 1 questo è sicuro grazie presidente in bocca al lupo in bocca al lupo a voi e grazie dell'invito grazie grazie al presidente Martina allora vedo pronto il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricalo con Antonio Specchio vi dico subito anche così continuiamo a dare notizie il Nardò che si sta riorganizzando con De Sanso in panchina Simone Danna dunque resta a Nardò chiuso cioè siamo in chiusura con Marco Maletic ricordo siamo in chiusura a Nardò con Marco Puntoriere anche della Palmese resta in stand by la situazione Ciro Cipolletta il giocatore sembrava vicinissimo al Nardò ieri c'è stato questo inserimento del Siracusa ma soprattutto c'è stato l'inserimento del Matera che ha presentato una nuova proposta al giocatore per provare a trattenerlo quindi al momento per Cipolletta ma poi la situazione potrebbe cambiare domani mattina l'ordine al momento sarebbe con il Nardò leggero ritardo poi il Matera e poi il Siracusa al momento poi le cose possono cambiare sentiamo il direttore sportivo del Monopoli con Antonio Specchio grazie Fabrizio eccoci con il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricalo insomma partiamo dal campo perché oggi avete battuto una squadra di tutto rispetto come il Lecce primavera e non è da tutti i giorni battere una squadra del genere sì sicuramente fa piacere però è ovvio che poi le analisi le facciamo per quella che è stata proprio la gara noi sappiamo che in questo momento abbiamo delle difficoltà che sono dovute alla mancanza di alcuni elementi in particolar modo a centro campo quindi sapendo che il ruolo è nevralgico di una squadra oggi abbiamo sofferto sicuramente però difficilmente esprimo giudizi nel periodo della preparazione non ci dimentichiamo che siamo sì e no da neanche dieci giorni in preparazione quindi ci vuole il giusto tempo stanno arrivando altri giocatori che devono lavorare non tutti sono nella stessa condizione e quindi credo che per dare i primi giudizi dobbiamo aspettare sicuramente le prime partite ufficiali direttore insomma sono ore molto calde perché avete in canna diversi colpi Virgilio Battocchio che sono praticamente qui in ritiro Bruschi che è un'ala di centrocampo Vasquez per l'attacco dopo la cessione di Sosa insomma c'è tanto ma la mia curiosità riguardava soprattutto il centrocampo perché oggi abbiamo visto un centrocampo green con Scipioni con De Vietro con Cascella adesso è arrivato anche Virgilio il Monopoli credo a questo punto faccia minutaggio ma ci credete ai giovani punterete sugli under ma intanto noi sappiamo che dobbiamo fare minutaggio oggi il mister ha fatto di necessità Virtù perché mancando anche Delisio che in questo momento è diciamo uno dei centrocampisti ha dovuto sopperire mettendo due ragazzi magari anche Scipioni in una posizione non proprio sua e sappiamo che Bulevardi è arrivato da alcuni giorni e quindi ci sono in questo momento ecco dei giocatori che noi dobbiamo necessariamente portarli in condizione quindi quando le avremo in condizioni e i nuovi arrivi si metteranno nelle condizioni di giocare avremo sicuramente un quadro diverso Bruschi e Vasquez vanno ad arricchire il vostro reparto offensivo? Sì sono due giocatori che secondo me ovviamente con caratteristiche differenti però devono andare a completare un reparto che secondo me ovviamente mancava di alcuni elementi quindi in questo momento con l'arrivo dei due sicuramente almeno l'attacco è un reparto che ritengo in questo momento al completo attacco al completo altri reparti abbiamo visto che a centrocampo siete attivissimi in difesa dove comunque qualche innesto è già arrivato cosa dobbiamo aspettarci in queste prossime settimane anche in uscita eventualmente? Ma intanto con l'arrivo ecco di due centrocampisti come Battocchio e Virgilio cominciamo a inserire delle nuove pedine proprio in mezzo al campo dove precedentemente avevamo solamente Dico De Rissio e Bulevardi e Borrello che sono due giocatori prettamente un po' più offensivi e quindi arrivano questi due vediamo se forse arriva qualcun altro dietro probabile che si possa fare anche un altro inserimento però lo facciamo con la relativa calma perché nel momento in cui oggi arrivano questi giocatori secondo me abbiamo già un organico abbastanza completo vedremo pure il mercato cosa ci offre d'altronde manca ancora più di un mese e valuteremo strada facendo In uscita? In uscita ci sono dei giocatori che sicuramente già sanno che devono magari trovare delle soluzioni adeguate lo sanno chi magari deve uscire perché penso che sia anche corretto voglio dire che lo sappiano i procuratori lo sanno anche loro ma questo perché perché riteniamo che se sono chiusi all'interno di questo gruppo è giusto pure che magari trovano delle sistemazioni differenti dove magari possono fare voglio dire il proprio ruolo nella maniera migliore In ultima battuta io vorrei un parere da lei perché oggi abbiamo comunque visto una squadra giovane come le Lecce affrontare una squadra comunque che affronterà il prossimo campionato di Serie C un po' sulla falsa scia di ciò che accadrà con le Under 23 crede che questa sia la maniera corretta per affrontare anche la crescita dei giovani anche da parte poi dei vostri Under che sono andati ad affrontare una squadra allo stesso tempo di pari livello? Intanto ragioniamo che il Lecce lavora in una certa maniera per costituire la primavera sono tutti ragazzi stranieri ragazzi che arrivano mi sembra molti dai paesi dell'est ma questa è un po' la missione il loro marchio di fabbrica giocatori che arrivano da settori giovanili importanti qualificati e poi anche Corvino è un maestro sotto questo aspetto ce lo insegna e quindi è vero che noi giochiamo contro squadre che sembrano come ti posso dire sì delle primavera ma sono dei giocatori veri tanto è vero che hanno secondo me un bell'organico per svolgere un gran bel campionato di primavera ma la Juve ha già dimostrato la Juve Under 23 di essere una squadra competitiva squadre che sicuramente se la possono giocare con anche le migliori squadre del nostro girone la Juve l'anno scorso è arrivata a fare i playoff e li ha fatti anche veramente in maniera ottima perché hanno sicuramente alle spalle dei settori giovanili importanti dove ci sono tanti investimenti dove c'è tanto lavoro e che sicuramente la qualità poi la vedi è ovvio che i nostri ragazzi non hanno le stesse basi hanno bisogno magari di maggiore tempo per poter maturare è vero che noi abbiamo alcuni ragazzi ai quali stiamo dando anche la possibilità di affermarsi o comunque di trovare spazio in Lega Pro però ci vuole tanto lavoro hanno bisogno secondo me dei giusti tempi per poter essere inseriti perché poi la Lega Pro è un campionato molto difficile perfetto grazie direttore Fabrizio ti restituisco la linea bene 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 così grazie grazie Antonio Specchio allora il Monopoli ha chiuso quindi Vasquez quindi si attende soltanto ormai l'annuncio ufficiale pare tutto fatto mentre dalla serie D mi arriva adesso che il Brindisi ha presentato un'offerta per Leonardo Perez del Casarano il giocatore ha un altro anno di contratto con il Casarano quindi il Brindisi proverà a fare Leonardo Perez da affiancare agli attaccanti Muculu e Marcheggiani quindi notizia dell'ultima ora proposta del Brindisi per Leo Perez che però ribadiamo a un altro anno di contratto con il Casarano notizia di pochi minuti fa vedremo se potrà concretizzarsi andiamo ad Andria oggi infatti si è radunato anzi è proseguito l'allenamento interno dell'Andria che tra poche ore partirà in ritiro c'era per noi Massimiliano Di Pasquale dopo quattro sessioni di allenamento a porte chiuse prima sessione a porte aperte per la Fidelisandria che abbraccia i suoi tifosi qui al Degli Ulivi la partenza per il ritiro di Montorio Alvomano è fissata a lunedì 29 luglio con la squadra che lavorerà agli ordini di Mister Danucci in Abruzzo fino al 13 agosto queste intanto le parole di Gladestoni da Silva una sensazione positiva tutti quanti mi ha accolto veramente bene sono contento di essere qui dell'opportunità che la società sta veramente mi dando e niente già siamo già a quattro giorni di allenamento e ogni giorno stiamo alzando la nostra assicella per dar sempre il massimo sarà fondamentale che comunque sarà il nostro giocatore in più che per noi è una forza è una spinta comunque questo è importante essere insieme e noi il nostro obiettivo è veramente dare la soddisfazione che loro meritano ho giocato in piazza importante come hai detto te Quattagna anche vengo da Giuliano però Andrea quello che veramente ho saputo e anche sono venuto qua tante volte a giocare contro è un tifoso veramente caldo è un tifoso che sta sempre da primo minuto all'ultimo anche questo mi ha spinto ad avvenire perché è una piazza così che uno un giocatore si sente veramente carico di avvenire Andrea è una piazza che non può stare mai in questa categoria però in questo momento si trova qui e noi io più gli altri tutti insieme stiamo qua per veramente portare dove meritano la piazza di Andrea e abbiamo ascoltato Gladestoni che è stato uno dei più grandi colpi di mercato di questa pazzesca serie D che vi anticipammo veramente più di un mese fa quando il Giuliano decise di metterlo in uscita vedo ancora Antonio Specchio in diretta dalla Calabria con Giovanni De Toma Club Manager del Lecce Primavera sentiamo Grazie Fabrizio buonasera qui siamo a 1500 metri più o meno di altitudine siamo sulle vette della Sila a pochi chilometri da Cotronei e bisogna dire direttore che si sta anche abbastanza freschio qui con me Giovanni De Toma Club Manager della Primavera delle Lecce insomma oggi un allenamento per voi anche abbastanza indicativo perché avete affrontato una prima squadra una squadra di grandi di serie C come il Monopoli sì sì assolutamente buonasera a tutti saluto Fabrizio sì oggi è stato un bel test perché giocare contro calciatori già affermati diciamo importanti per i nostri ragazzi è comunque è un momento di crescita quindi è stato un ottimo test è stato un ottimo test avete oggettivamente un'ottima squadra è cambiato tanto rispetto all'anno scorso è arrivato anche un nuovo allenatore che eredita insomma delle cose importanti dopo l'era Coppitelli che stagione vuole essere sì la valorizzazione della primavera ma in termini di obiettivi dove vuole arrivare questo Lecce quest'anno no c'è da dire innanzitutto che sì è vero abbiamo cambiato tanto questo è un campionato difficile quest'anno noi ci saranno quattro squadre che saranno a lottare per non retrocedere quindi è un campionato importante però noi non ci spaventa sono quattro anni da quando è arrivato il direttore Corvino che insieme alla società loro il settore giovanile e la primavera diciamo che è un punto cardine viene strutturato con un'importanza feroce direi uso questo termine tanto dovete pensare che il direttore Corvino è stato qui è stato qui con noi è venuto a trovare la squadra per appunto farvi capire e far capire quanto lui ci tenga alla primavera al settore giovanile e al percorso che devono fare questi ragazzi quindi per noi la primavera è un campionato importante è un campionato che la società e il direttore ci tiene tantissimo e quindi come sempre cerchiamo di creare delle risorse per la prima squadra noi quest'anno abbiamo ancora portato dei ragazzi in prima squadra voi sapete bene che 4-5 ragazzi sono in pianta stabile tanti come Dorgo come Beriscia come Gonzales ne potrei dire altri Burnete e quant'altro sono ragazzi che sono in pianta stabile in prima squadra quindi questo avvalora proprio il percorso che fa questa società e il lavoro che c'è dietro è un po' il lavoro che la società di Sticchi Damiani sta portando avanti negli ultimi anni lo scouting è feroce è un termine che ha utilizzato lei è feroce perché ogni anno sfoderate giocatori da altri campionati da altri paesi forse addirittura da altri continenti che poi sono forti oggi Codor in attacco Golter a centrocampo sono tutti giocatori forti bravo bravo mi dai un assist per dire questo noi giochiamo contro squadre che hanno delle risorse importanti nelle varie società come il Milan l'Inter la Juve e quant'altro e quindi noi dobbiamo avere questo grazie al direttore Corvino e le persone che lavorano con lui dobbiamo avere le idee loro hanno le idee e poi appunto queste idee vengono tramutate in ragazzi che magari non conoscono in pochi conoscono che poi però arrivano magari in Serie A con la prima squadra ecco quindi la difficoltà è tanta ci vuole tanto lavoro dietro però appunto noi siamo supportati da un direttore di quel livello quindi sembra facile ma non lo è però questa è la strada che abbiamo noi ecco speriamo che queste idee continuino a fruttare come è accaduto in questi anni Fabrizio ti restituisco la linea grazie Antonio grazie a tutti i colleghi allora ricapitoliamo un attimo la situazione Lecce oggi ha ingaggiato Filippo Marcinski centro campista classe 2002 quattro anni di contratto con opzione per il quinto Taranto che riapre la trattativa con Adriano Montalto classe 88 attualmente alla Casertana sempre aperta la pista che porta al centro campista classe 2000 Salvatore Pezzella dell'Avellino blindato il Ricci come sapete anche se l'Avellino ci ha riprovato anche due giorni fa di nuovo c'è sempre aperta la pista Fabio Ruggeri della Lazio difensore classe 2004 è in ritiro con il Taranto Matteo Fravola centro campista classe 2006 del Palermo ex primavera della Roma il Foggia la situazione dell'escano l'abbiamo già descritta prima è abbastanza delicata vedremo se ci sono sviluppi il Foggia ci sta provando sì ci sta provando e anche con forza intanto però ha chiuso e dovrebbe annunciarlo domani Lazar Zlicic attaccante classe 97 era svincolato l'ultima esperienza in prima divisione Serba giocatore che era stato attenzionato anche da altri club italiani Cerignola dopo Cuppone e Galliano può chiaramente un attimo aspettare però il Cerignola sta cercando altri tre elementi ci stiamo lavorando penso che tra domani e lunedì sapremo darvi qualche indicazione in più la team Altamura ha chiuso adesso mentre eravamo in diretta con Vito Leonetti dovrebbe arrivare con la formula del prestito proprio del Cerignola l'aveva cercato già un mese fa accordo chiuso ufficiale anche Daniele Franco centrocampista della Turris il Monopoli scatenato mentre eravamo in diretta c'è arrivata la notizia della chiusura con Federico Vasquez è uno dei colpi di questa Serie C forse più importanti in assoluto ex Catanzaro ex Virtus Francavilla ex Gubbio ex Perugia Vasquez sarà presentato domani dal Monopoli che oggi ha chiuso anche Nicolo Bruschi proveniente dalla Prosesso e dal Fiorenzuola oltre a Paolo Virgilio che sarà ufficializzato a breve classe 2005 del Martina frenata per Nana Welbeck vediamo se si riapre domani Picerno che rinuncia a Gaetano Vitale che dovrebbe andare al Crotone Catania che sta provando ancora il pressing con Roberto Inglese e conta di chiudere con Guido Gomez del Crotone Potenza che continua a seguire Matteo Bacchini classe 95 della Juve Stabia Virtus Francavilla deve risolvere qualche problema burocratico per ingaggiare Winston Montesai ex Brindisi ma l'accordo con il giocatore intanto ha ceduto a Lellas Verona al classe 2006 Angelo Vapore e domani annuncia Luigi Piccolo terzino destro classe 2006 della Turris il Nardò resta ad Anna ha chiuso l'accordo oggi con Maletic ex Nocerina ha chiuso l'accordo con Marco Puntoriere della Palmese continua a trattare Ciro Cipolletta che però ha ricevuto una nuova proposta dal Matera che vorrebbe trattenerlo e ha ricevuto anche una proposta dal Siracusa intanto come sapete ha chiuso anche Andrea Sorino classe 2006 del Lecce l'Andria da Silva ce l'ha in pugno deve risolvere i problemi burocratici per tesserarlo però da Silva è nelle mani della Fidelistandria bisogna capire se riuscirà a tesserarlo però c'è l'accordo e c'è tutto lo ribadiamo Marco Raikovic ex Casarano va alla Putiolana Perez potrebbe lasciare il Casarano ha ricevuto ieri una proposta dal Brindisi e la stanno valutando insieme il Fasano ha ufficializzato il portiere Raul Lombardo che abbiamo dato il mese scorso il Matera sta seguendo Gulinatti centrocampista classe 98 in forza al Limolese nell'ultima stagione 36 presenze 4 gol e 2 assist Brindisi abbiamo detto sta chiudendo anche Raffaele Natuzzi il Brindisi oltre a provarci con Perez Natuzzi è chiuso classe 2005 presso al Bari sarà ufficializzato nelle prossime ore domani la conferenza stampa di presentazione del nuovo Brindisi il Barletta vi abbiamo anticipato tutto sul Barletta in arrivo Matteo De Gaulle difensore ex Molfette Gravina lo so mi hanno scritto in tanti hai detto De Gaulle ma aveva firmato in un'altra parte si aveva firmato ma non era stato depositato e va a Barletta Cristian Ciurlo chiuso difensore centrale classe 2006 ex Bari ed ex Fidelissandria under 17 in arrivo notizia di stasera anche a Barletta Parisi della Virtus Francavilla chiudiamo così con questa raffica di notizie con la grande preziosa collaborazione di Sebastiano Bufalo in regia ci ritroviamo lunedì alle 20.30 con speciale calciomercato su Antena Sud Grazie a tutti